oggi siamo a Toro sul Trasimeno un'altra di quelle piccole perle vicino ad Arezzo che ci consentono d'estate di supplire abbondantemente la carenza del mare nelle vicinanze un luogo tranquillo rilassante in cui è possibile fare dei bei bagni una delle acque che è stata giudicata tra le più pulite che ci sono in italia anche se quest'anno il lago si è ritirato in maniera notevole basta guardare la linea della spiaggia che è stata lasciata libera dall'acqua considerate che normalmente il lago arriva alle scale per le imbarcazioni che vedete lì lungo il muletto immaginatevi di quanto è sceso il livello dell'acqua quest'anno ma ciò non toglie che comunque Tuoro sul Trasimeno rimane un po' il ritrovo domenicale più ambito dalla zona di Arezzo Siena della Val di Chiana per potersi godere un bel bagno tranquilli in santa pace senza il caos delle località turistiche più rinomate a pochi chilometri da Arezzo venite a vederlo di persona e scopritene la bellezza e posso consigliare solo questo alla prossima